Il governo potrebbe indire per questa sera il Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera alla proroga dello stato di emergenza per il contrasto al coronavirus dopo l'aumento dei contagi nelle ultime settimane. Al momento in scadenza il 7 ottobre. Confermate tutte le misure anticontagio. Finora previste l'introduzione dell'obbligo delle mascherine all'aperto e la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio. Smentite le chiusure anticipate di negozi, bar e ristoranti. Donald Trump è stato dimesso nella notte italiana dall'ospedale dove era ricoverato per coronavirus. Rientrato alla Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti si è tolto subito la mascherina. Con prudenza, ma uscite, non fatevi condizionare dal coronavirus, ha dichiarato Trump, mentre lo sfidante Biden gli ha ricordato che il numero di decessi negli Stati Uniti ha superato quota 205 mila. Ballottaggi per i sindaci sorridono all'alleanza PD-Movimento 5 Stelle nelle nuove città a capoluogo. Il centrosinistra ne vince in sé. Il Movimento conquista a Matera e il centrodestra si conferma ad Arezzo, mentre liste civiche vincono a Crotone. Oltre a Matera e 5 Stelle ottengono altri quattro comuni, ma sono scossi dalle voci di scissione. Il maltempo che nel fine settimana ha devastato le regioni del nord-ovest del paese ha causato altre due vittime. Sono due operai impegnati in un cantiere per la rimozione dei detriti, danni ingenti a strade ed infrastrutture devastate. Le zone di Limone e Piemonte, il Col di Tenda al confine con la Francia. I governatori di Ligure e Piemonte hanno chiesto al governo lo stato di calamità. Sono le 7.30, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano parliamo del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio relativo al coronavirus che prevede la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio del prossimo anno. Il provvedimento del governo, che verrà illustrato oggi in Parlamento dal Ministro della Salute Speranza, conferma tutte le misure anti-contagio finora previste, compresa quella che in parte viene discussa da alcuni governatori delle regioni di estendere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e su tutto il territorio nazionale. Vediamo il servizio. Durerà 30 giorni e conterrà le misure che il governo ritiene necessarie a invertire la rotta che ormai da qualche settimana conduce verso la seconda ondata della pandemia. Il decreto del Presidente del Consiglio sarà illustrato questa mattina a Camera e Senato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Un passaggio necessario per ricevere il via libera dal Parlamento ed arrivare dopo un ulteriore confronto con regioni, province e comuni questa sera al nuovo Consiglio dei Ministri che varerà il documento prima della firma del Premier e con qualche ora ad anticipo rispetto alla scadenza del precedente provvedimento. Lo stato d'emergenza sarà prorogato fino al 31 gennaio del 2021. Ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale e un limite al numero di presenze per cerimonie e feste private. Per il momento il tetto massimo previsto è di 200 persone ma potrebbe scendere anche a 100. Non ci sarà invece alcuna restrizione o chiusura anticipata per i locali e i ristoranti. Palazzo Chigi ieri ha smentito le voci in tal senso che avevano già alimentato un'aspra polemica politica. Per bloccare i contagi di importazione si estenderà l'obbligo dei tamponi al momento previsto per Spagna, Malta e Croazia anche a chi rientra da Olanda, Regno Unito, Belgio e forse l'intera Francia. L'obiettivo è comunque quello di scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Ci potranno essere chiusure e zone rosse limitate e i governatori potranno emettere ordinanze restrittive come quella già varata dalla Campania che ha disposto la chiusura alle 23 di bar, gelaterie e pasticcerie mentre ristoranti e pizzerie potranno a quell'ora far entrare gli ultimi clienti. Orario allungato a mezzanotte nel fine settimana. Misure destinate a limitare la movida notturna criticate aspramente dal sindaco di Napoli De Magistris. E a proposito di coronavirus, diminuiscono nelle ultime 24 ore i contagi ma anche il numero di tamponi processati mentre aumentano i ricoveri anche quelli nei riparti delle terapie intensive numeri che comunque preoccupano. I numeri dicono che i contagi stanno calando ma basta incrociare nuovi positivi con il dato dei tamponi fatti per capire che quella di ieri è stata probabilmente soltanto una tregua che dovrà essere verificata oggi. La sintesi del report quotidiano del numero dei positivi registrati nelle ultime 24 ore parla di un lieve calo dei nuovi casi acclarati di Covid-19 a fronte però di una drastica diminuzione dei test effettuati. Rispetto a domenica ci sono 2257, nove persone positive ai tamponi per il coronavirus secondo giorno consecutivo di decrescita. Erano 2578, domenica 2844, sabato ma come sempre accade nei weekend sono stati effettuati anche molti meno controlli. Per conferma basta vedere il numero dei tamponi effettuati 118.932, sabato 92.714, due giorni fa e 60.241 il dato di ieri. Per avere conferma che il dato dei nuovi positive da prendere con le molle basta incrociarlo anche con quello che riguarda il numero dei ricoveri dei posti occupati in terapia intensiva che non è certo ancora allarmate ma che deve far riflettere. Sono addirittura 200 in più le persone ospedalizzate rispetto a domenica mentre ci sono 20 persone in più in terapia intensiva, 16 i decessi registrati ieri. Il peggioramento della situazione della pandemia di coronavirus in Italia non dipende dalle scuole, dice la ministra Azzolina dopo la riunione con l'Istituto Superiore di Sanità. Sono infatti molto bassi i dati dei contagi nelle scuole sia per il personale che per quanto riguarda gli studenti. Gli studenti positivi sono 1492, il personale docente che risulta contagiato è pari a 349 persone, sono 116 casi di positività tra il personale. Non docente, occorre restare attenti anche sulle attività extrascolastiche ha ribadito la ministra. E adesso le condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. È rientrato alla Casa Bianca dove si trova in quarantena la First Lady Melania. è assicurato di star bene e di voler riprendere la campagna elettorale. Ha subito bollato come fake news i sondaggi che danno in testa il suo rivale Biden. Vediamo. Appena tornato sulla scena dal Walter Reed Medical Center ed è già polemica. Asceso dall'elicottero per rientrare alla Casa Bianca, Donald Trump si toglie la mascherina e saluta l'ennesimo gesto di sfida. Ma aggravato questa volta dalla positività al virus che rende comunque il Presidente americano ancora contagioso. Con prudenza ma uscite, non fatevi condizionare, annuncia via Twitter al Paese. E così riparte ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni di novembre. Trump lancia messaggi rassicuranti sulla pandemia, lo spieghi alle famiglie dei 205 mila americani che a causa del Covid hanno perso la vita. ha replicato lo sfidante democratico Joe Biden parlando in Florida. Quello Stato chiave che ancora una volta deciderà chi uscirà vincitore dalle urne il prossimo 3 novembre. Finché non risulterà negativo ai test, il Presidente statunitense potrà comunque fare solo campagna virtuale, mettendo così a rischio anche gli altri due dibattiti TV, il 15 e il 22 di ottobre. Intanto Biden ha dichiarato apertamente di essersi pentito di aver definito il rivale un clown durante il primo duello televisivo. Penso però che sia stato un imbarazzo per la nazione vedere il Presidente così aggressivo sia giustificato il candidato democratico. La Commissione sulla campagna elettorale ha annunciato però una modifica al format per garantire un confronto più ordinato tra i due contendenti. Il prossimo round è fissato per giovedì 15 a Miami. E tornando a parlare delle condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti, poco fa le agenzie hanno battuto le dichiarazioni di Anthony Fauci. Lo sapete, il virologo massimo esperto, chiamato proprio da Trump alla Casa Bianca per intervenire sulle questioni relative al Covid, con lui ha spesso polemizzato. Allora, che cosa dice? Non sono coinvolto nelle sue cure, ma il problema è che è ancora abbastanza presto per la malattia e non è un segreto se si guarda il decorso clinico delle persone. A volte, quando si è nell'asso di tempo di 5-8 giorni, si può avere una ricaduta. È improbabile che accadrà, ha detto Fauci, ma hanno bisogno di essere avvisati. E sempre a proposito degli Stati Uniti, è risultato positivo un altro degli invitati all'evento per la nomina del giudice Barrett. Lo sapete, sembra che proprio lì sia divampato il focolaio che ha coinvolto anche il Presidente Trump e alcuni membri del suo staff. E allora, adesso noi rientriamo in Italia invece per parlare di politica, parlare di ballottaggi, perché sembra essere uscita rafforzata la maggioranza, l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, lo dicono i risultati dei ballottaggi. Vediamo. Anche il turno di ballottaggi alle elezioni comunali è tutto quasi a pannaggio del centro-sinistra. Nei nove capiluoghi vince ovunque, tranne che a Derezzo, che rimane al centro-destra. Soddisfazione, anche se con numeri più modesti, per i 5 Stelle conquistano per la prima volta con il supporto dell'elettorato di centro-sinistra, Matera, e altri quattro municipi, tra cui Pomigliano, la città di nascita di Luigi Di Maio, che festeggia e parla di modello pomigliano. Dopo 15 giorni, dunque, si conferma la tendenza già registrata nel primo turno e così il centro-sinistra conferma Giuseppe Farcomatà a Reggio Calabria, vince anche a Chieti con Diego Ferrara e strappa Andria al centro-destra con Giovanna Bruno. Passa a Lecco, dove partiva in svantaggio con Mauro Gattinoni, ma solo per 31 voti, e a Crotone le civiche confermano Vincenzo Voce. La soddisfazione è alta al Nazareno. Il segretario Nicola Zingaretti dice «Sono molto contento, soprattutto per ciò che abbiamo dimostrato come cultura della politica. Non si vince con lo spirito di rivalsa e di vendetta, si vince con la pazienza e con la discussione. Ma il leader dem guarda già al futuro, al voto amministrativo del 2021, e dunque lancia il tema delle alleanze, destinatario principale, il Movimento 5 Stelle. E infatti annuncia «è tempo di prepararsi a quella scadenza, ci andremo con spirito unitario e di rinnovamento, sarà così ovunque, lo sarà certamente a Roma». Ma in vista del rinnovo del Consiglio Comunale del Sindaco della Capitale, l'attuale primo cittadino, Virginia Raggi, ha già annunciato la propria ricandidatura e il PD non gradisce. Nel voto di domenica e ieri, comunque, l'affluenza alle urne fa registrare un notevole calo, poco oltre il 50%, il 50,64 al primo turno era stata del 67,01. Da Genova, Matteo Salvini dice «Sono contento che la Lega sia tornata a governare questa terra». Poi aggiunge «siamo già al lavoro, guardando per l'appunto alle amministrative del prossimo anno, ma quella è un'altra storia». E nonostante il risultato elettorale incassato in questi ballottaggi, restano comunque agitate le acque all'interno del Movimento 5 Stelle. Oggi il ministro Di Maio, intervistato, lancia appelli al dialogo e all'unità. Vediamo. Non credo che Alessandro Di Battista volesse accusarmi di essere attaccato alla poltrona quando ha detto che rischiamo di fare la fine del partito di Mastella. E comunque, il processo di costruzione dell'alleanza con il PD è stato sostenuto da un voto dei nostri iscritti, dice Luigi Di Maio, il giorno dopo il risultato dei ballottaggi delle comunali. Con Alessandro spesso diciamo la stessa cosa. Nessuno di noi vuole che il Movimento diventi partito, aggiunge ancora Di Maio, intervistato dalla stampa. Cauto con Di Battista, che pure aveva definito il PD la morte nera, freddo con Davide Casaleggio. È il presidente dell'Associazione Russo, liquida la domanda sui rapporti con il figlio di Gian Roberto, che sarebbe pronto a portare i vertici dei 5 Stelle in tribunale. In ballo la proprietà del simbolo e del blog del Movimento. Lo scontro con il Comitato dei Garanti, composto da Lombardi, Crimi e Cancelleri, è stato durissimo, condito da minacce da una parte e dall'altra. Per i parlamentari Casaleggio usa il blog come una sua proprietà, non avendone pieno diritto, Casaleggio rivendica i servizi messi a disposizione e il contratto che impone il versamento di una quota che molti parlamentari da tempo trattengono. Il figlio del fondatore avrebbe confidato ai suoi collaboratori di essere pronto anche ad andare in tribunale, una minaccia che sembra il primo passo di una battaglia che potrebbe portare all'ascissione del Movimento. Non tutti i parlamentari condividono l'assalto a Casaleggio, oltre al gruppetto di quelli vicini a Di Battista, anche altri vorrebbero evitare lo scontro frontale, tra questi il presidente della Commissione Antimafia Morra, critico per la gestione di Rousseau, ma pronto ad andarsene dai 5 Stelle, trasformati in un partito tradizionale. E via libera ieri sera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto su sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti legge Salvini. Niente più multe milionari alle ONG e si amplia il sistema di accoglienza con il divieto di espulsione e respingimento di chi nel suo paese rischia torture o trattamenti disumani, a cui va riconosciuta la protezione speciale. Arriva il DASP urbano per tenere lontani violenti spacciatori dai luoghi di intrattenimento, l'aumento delle pene per il reato di rissa e nuove norme per oscurare i siti pericolosi del dark web. Fino a 7 anni di carcere per chi agevola i detenuti in 41 bis. E adesso parliamo del maltempo. Lo sapete, la violenta oldata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la parte occidentale, nord-occidentale del nostro paese. I governatori di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta chiedono lo stato di calamità. Intanto, mentre si fa la conta dei danni, sono 7 finora le vittime restituite dal mare, ma potrebbero non essere italiane. Vediamo. Ancora ieri i vigili del fuoco hanno recuperato con l'elicottero 15 persone, italiani di Cuneo e Torino, bloccati da venerdì nella cittadina francese di Tenda, non più raggiungibile dall'Italia né dalla valle francese del Roia. Il tunnel del colle di Tenda, che collega il Piemonte alla Francia, è stato completamente allagato dall'acqua che si è infiltrata nel terreno, mentre è crollata la strada in uscita sul versante francese. Sono stati portati a Limone Piemonte, stazione scistica fortemente colpita dal maltempo nel fine settimana, dove gli impianti di risalita sono stati distrutti, le case travolte dalla furia dell'acqua, mentre continua il lavoro dei volontari per liberare il paese da fango e detriti. È ancora presto per fare la conta dei danni, ha detto il sindaco, mentre per i primi interventi per mettere in sicurezza il paese servono subito 4 milioni di euro. Le transenne piazzate intorno a questa chiesa del 1400 a Luh Monferrato, vicino ad Alessandria, dopo la caduta di calcinacci dovuta alla forte pioggia, hanno evitato ci fossero vittime quando è crollato improvvisamente il campanile. Strade allagate ancora interrotte tra il Piemonte e la Liguria. A Santo Stefano Davide è collassato un tratto della provinciale verso Bobbio. Il bilancio delle vittime di questa ondata di maltempo che ha flagellato il nord ovest conta due persone in Piemonte, una in Val d'Aosta, a cui si aggiungono due parai travolti dall'escavatore con cui stavano ripulendo dai detriti una strada in provincia d'Imperia. È salito a 7 invece il numero dei corpi restituiti dal mare sulla costa del ponente Ligure, l'ultimo ieri pomeriggio su una scogliera a Sanremo. Potrebbero essere alcune idee dispersi sul versante francese di cui non si hanno più notizie. I governatori di Ligure e Piemonte hanno chiesto al governo lo stato di calamità così come la Val d'Aosta. Intanto questa mattina riprendono nel Paevese le ricerche del cacciatore Bresciano travolto dalla piena del Sesia. E adesso lo sport con il calcio. Il caso Juve-Napoli non andrà ad intaccare la validità del protocollo anti-Covid. Ieri dopo un'ora di incontro in Federcalcio sia il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, che il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, sono stati concordi. Il protocollo è ancora giusto da tenere, da portare avanti e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore. è apparso convinto il ministro al termine dell'incontro in Via Allegri. Chiarando che il campionato non è a rischio ma se lo si vuole portare a termine tutti dovremo continuare ad avere prudenza e a tenerci alle regole. Se poi la situazione sanitaria dovesse cambiare come governo, ha detto Spadafora, siamo pronti a cambiare. Intanto la procura della Federcalcio ha chiesto copia della corrispondenza tra la ASL, la Regione e il Napoli aprendo dunque un'inchiesta. E ci sono importanti novità invece per quanto riguarda il calcio mercato una su tutte il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus di Federico Chiesa trasferimento che però non è piaciuto alla tifoseria Viola. Vediamo. Il grande colpo dell'ultimo giorno di mercato si chiama Chiesa. Il giocatore direttamente dal ritiro azzurro di Coverciano ha sostenuto ieri le visite mediche con indosso la tuta della Nazionale fischiatissimo all'uscita dai tifosi Viola da sempre nemici giurati della Juventus. I bianconeri gireranno alla Fiorentina 3 milioni il primo anno 7 il secondo e 40 più bonus il terzo per un totale complessivo di 60 milioni. La società del presidente commisso si consola con l'arrivo di José María Cálléón stesso ruolo di Chiesa ma con 11 anni in più sulla carta d'identità ufficializzato anche il giovane difensore della Nazionale Argentina Lucas Martínez Quarta 100 partite giocate nel River Plate con cui ha vinto anche la Coppa Libertadores mentre l'ex torrinista Barreca ha giunto in prestito dal Monaco il rinforzo per la difesa. Tornando alla Juve le operazioni in uscita riguardano il ritorno di Douglas Costa al Bayern Monaco dopo tre anni e il trasferimento di Mattia De Sciglio a Lione di Rudy Garcia. Si è conclusa invece sul filo di lana la trattativa infinita per il ritorno di Chris Smolling alla Roma con un ritardo nel trasferimento dei documenti che ha fatto tremare i tifosi giallorossi sino alla tanto attesa ufficialità apparsa sul sito del Manchester United che incasterà 15 milioni più bonus. L'Inter preleva dal Parma il trentenne esterno Matteo Darmian e cede Joao Mario allo sport in Lisbona suo club d'origine lasciando invece con la maroon bocca il Cagliari che già pregustava il ritorno nell'isola di Raja Nainggolan. Per il suo centrocampo invece il Napoli si è assicurato l'ex milanista Bacayoko giunto in prestito dal Chelsea usato sicuro per il Verona con Nicola Kalinic che reduce dall'esperienza con la Roma torna in prestito gratuito dall'Atletico Madrid. L'euforia del neopresidente Kyle Krause porta nuova l'infa al tecnico del Parma Liberani con gli arrivi del gigante difensivo venezuelano Jordan Osorio prelevato dallo Zenit San Pietroburgo dell'esperto centrocampista del Nizza Ciprian oltre al ventenne Valdostano Nicolussi Caviglia giunto in prestito dalla Juventus curiosità in casa Torino per l'acquisto dalla Dinamo Zagabria della giovane promessa Amer Gojak trequartista classe 97 considerato dagli additi ai lavori come uno dei prospetti più interessanti del calcio bosniaco. 7.48 minuti il telegiornale finisce qui rimanete con noi ci sono tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale da Patrizia Iorio poi torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è il dibattito che è condotto da Alessandra Sardoni grazie per aver scelto la nostra informazione ci vediamo domani una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti